Manalaria, 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 Manalaria. Quanto è importante per lei al giorno d'oggi fare volontariato contro la mafia? E perché ha scelto proprio questo settore? Beh, è importante perché, come si è visto, per battere la mafia non basta la repressione, non basta l'azione pur importante, preziosa, decisiva della magistratura, delle forze di polizia, è necessario che ci sia una ribellione di popolo e quindi il fatto che ci siano tanti giovani, tanti cittadini che nella loro attività quotidiana dedicano del tempo a far capire e a contrastare l'azione dell'andrangheta, delle mafie, è assolutamente prezioso. Ecco perché io credo che sia importante che esperienze come il Festival Trame, esperienze come Libera e tante altre attività che sul territorio si stanno realizzando siano l'ossatura e il giusto complemento a un'efficace lotta alle mafie.